Eh, io sì, io te lo consiglio. O aspetti che scenda di prezzo, perché tanto non credo che sarà... Melendiano, fino a Milano. Credo che scenderà di prezzo abbastanza velocemente. Fatto di malto d'orzo. Malto d'orzo, ecco. E perché ovo? Ovo e che cazzo ne so, Audrey? Cioè, va bene, vuoi sapere tutto? D'Agrissia, non ti posso dire sì. Fatto con le mani. L'avresti già fatto, immagino. No, no, no. Cosa? Ma si è gricciato tutto? Era gricciato o è gioco? Era gricciato, lo so. Magari si inizia a schivare, beh. Zelda Minish Cup? È lui, è lui. È lui. Comunque la cosa bella di sto gioco, almeno per ora, che ovunque vai c'è qualcosa di diverso. Con una 40-60 ti hai, buono, buono. Io ho la... Noi cosa che abbiamo? 40-70. La 70 ti hai. E comunque quella 60 ti regge tutti i giochi che ci sono adesso. Cioè, basta... Bastano anche le 30 adesso per i giochi. Ci sono forzioni da prendere. Eh, ma non saprei come farcelo tornare se è stato mandato via da lì. Perché non c'era il tempo di... Eh, ma il problema è quello. Oh, adesso andiamo a vedere se col teletrasporto ci fa tornare nell'arena. Vedi? Che sembra God of War. C'è anche un tizio blu. Sì, sì, lo stile è molto simile. Ah, no, non è blu, allora. Ma sai che non lo conoscevo come titolo dopo? Cosa? Zerda Minish K. No, nemmeno io. Stavo ricordando il messaggio e... È possibile che non ci possiamo tornare, lì, caro, su questo lo siamo giocati. Grazie, ragazzi, la vostra presenza mi ha fatto battere la tiglia. La tigra me ne ha detto un ragazzo che ci sta giocando, che c'è una fantomatica tigre. Ma non l'ho ancora... Stai malissimo. Posso dirtelo? Che stai malissimo. Stai malissimo perverso. Però... E ha a che fare con la paralisi, quindi ci sta... Lo usiamo spesso. No, sta malissimo, però gliela sto mettendo perché ha più tutto. Vabbè, non è che normalmente sia bello in... No, però... C'è un altro fattore che potevi creare? Mh? Tre giorni, raga. Tre giorni? Mazzolo deve essere fastidiosa sta cacchio di tigre. Tre giorni? C'è che a te Mesmer, tipo? Ragione tanto. Oh, lo sbio ho riposato. Ma io non sapevo proprio della sua esistenza. No, a me me l'ha detto... No, 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 sto parlando di Zelda Minish K. Ah, di Zelda. Allora, come è che si faceva Forgia? Forgia armatura. No. E questa? Sì. Però non abbiamo una seta. Ma cosa fa? Sferrere un attacco leggero dopo... Ma è sempre tutto regato alla paralisi, ok? Ci serve uno, due, tre, quattro di seta. Nel caso in cui volessimo farla, ci starebbe pure. Come l'hai scoperto? Grazie a voi. Eh no, tosto, vediamo quando ci arriviamo. Allora, avendo giocato Elder Ring, i boss sembrano più semplici. Non sono semplici, ma sembrano più semplici. Sì, sarà perché veniamo da Elder Ring. Sono più puliti E non so, sembra che diano più tempo per respirare. Non sono facili, però. Comunque è un boss dietro l'altro, è una boss rush, praticamente. Così è meglio, se lo preferisco. Ma su qua è il terzo atto, adesso? Possiamo ancora il secondo. Ma siamo anche al secondo? Sì. Ah, trovo se è quello qui. Credo. Ma no, perché ne sapevi di più? Gatto è questo? Ma sto qua è un vecchietto fabbro, è un vecchio fabbro questo. Questo mena come un fabbro, come sto sentendo. Ma è anche un fabbro, avrà un martellone, quello, non sapete. Lo battuto, io siete voi, ragazzi. È troppo umano questo, uccidiamolo. Invece c'è un alabarda. Vabbè. Ok. Ha un range importante. Ma siamo pazzi? Ok, fa il più. Quando si. Dov'è? No, però a tutti questi valori non è giusto. Ok. No, non c'è. A te non piace questa cosa qua Luca Ci può stare Quando sei con questo non devi allontanarti Cioè la devi dare a toccare basse Che tanto la sua vita non è collegata alla tua Bad space, sì Io vi dico questa cosa Questa ha due fasi A me dead space è piaciuto Ma non ha spaventato così tanto Cioè temevo peggio quando Quando mi venne presentato Tipo no non puoi capire Porco due ma che cattiveria te che zio Questo è vento Oh l'ho sottovalutato Però è bello Sono pulite le boss La Guinness dei primati A me è piaciuto tanto il problema Porco No 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 vabbè Cane La maschera del demonio di Mario No a me è piaciuto invece È bello Travistorma Ma è un full vita No ma questa è una sassata Non credo Adesso lei lo batte per strike Eh sì Non credo proprio Lo vedo abbastanza Ma posso andare a cambiare l'acqua L'hai già fatto tu No non l'ho fatto ancora Strano Lo fai sempre tu Di solito Dov'è l'acqua Allora intanto ti cavi Non ti voglio No 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 Già Grazie a tutti. 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 Sto aspettando che si attivi la paralisi. Dove curarti. No, figlio di... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quindi non l'hai sconfitto. No. No, 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 no. Ok, ok. Ok, so guardiamo se... No, 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 no. Guarda nell'arena. No, 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 no. No, 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 no. Verbe del vino risvegliato Ci serviva però una cosa ma non mi può Per potenziare la fiasca può essere Sì, sì, sì Ciao topino Ciao topino Però quello possiamo farlo solo al tempietto Questo dai un'occhiata a giro meglio Il fatto che abbiamo messo tutto Guardati dalla porta, no dalla porta Ma già mi perdo facile Il fatto che ci sono un po' Mi da un po' al caso Eh si gira un po' a caso Mi da un po' al Kaiser Sono sincera Riesco i giochi dove puoi utilizzare la mappa Ma tu perché così in ordine mentale Riesci di orientarti meglio Signor Tombale Ciao signor Tombale Ritornato, come stai? Ma non doveva andare dal tizio Eh sa Da che tizio? Il tizio ce l'aveva fatta potenziare Ma no Non ci sono andato oggi Da tizio oggi L'aveva detto Ah ragazzi Coltiva spiriti Ah li potete far diventare più forti E potenze serpenti Ah effetti Hanno anche un effetto equipaggiato Quindi tu ci scelta il costo in vigore dei salti e degli attacchi con salto Aumenta significativamente la difesa Aumenta scelta i danni da veleno e resistenza al veleno Però questo contro i boss ci sta il serpentello Sì ma Questo va la testata Però sai Io ho visto che stunna anche I serpenti Capito? Non è tanto il veleno Comunque No ma non dovevi coltivarlo Dovevi Viaggio Allora mi sembra Dobbiamo andare dove c'è Sa il Quello 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 Chello 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 Ecco lo fa da lui A sleeping dogs L'ho sentito nominare ma pensavo che non l'ho mai giocato Sleeping dog Aspetta Grazie Il telefono sottocarica non posso guardare che gioco L'ho già sentito Però dove era il tizio scusami Ti ricordi? Vedi qua si va Vicino delle scale Qua bravo A destra adesso Ah qua Ok A destra Stavo andando a sinistra E la tua destra Sì stavo per andare a sinistra Cambia Non è come la destra di tutti Eh vedi Fiasco non possiamo farlo Che ci mancano i rampicanti Di vattacco Però bevanda Sì Eh possiamo aumentare Il Il recupero Il Sì Abbiamo solo questo carissimo l'ho giocato ma non è stato proprio io non l'ho giocato perché vai su no vedi che ti dice che c'è qualcuno che è sempre lui noi dove siamo questa pallina qua e dove siamo a ok ai l'empsi te lo segna perché c'è il non è interno della grotta questa è la gran sala tempio di guanyin prova a dare gran sala magari dal tempio dove non abbiamo preso gli oggetti quello dove hai battuto ma non c'era una tempietta è vero che lì sono i tempi di teletrasporti e non lo so non ne ho no 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 questo è un altro ma si vado hai ragione acqua la pe l'ho giugato , si vabbè di di vuole un visivo c'è un cazzo qua questo boss ora dobbiamo solo capire come tornare dove eravamo prima come era la ricetta e ancora non sono riuscita a fare proprio si viva non c'è da domani dopo domani la faccio ci provo penso che sia fuori dalla grotta rega si sono belli sono un po' doppi così e belli piccanti mi hanno detto tutto da vedere il peperoncini che ho preso ancora non li ha cucinati no 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 perché no perché ci voglio fare pita e fatta si uno puoi fare per farci un subiettino fotonico aspetta dove eri non c'ho voglia di combattere contro di te ho fatto un boss e ho fatto un mio ora devo capire una cosa però noi da dove siamo arrivati si ok ah stavi cercando proprio quello no 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 eh vabbè io li chiamo peperoncini quando sono piccanti ma sono peperoni quella di tipo piccante che poi tra parentesi ho scoperto vabbè mo sto qua a Milano però al Carrefour dove abitavo quante ne hai di ste frecce di merda mannaggia a te tuta tua di oggi vada là e ho scoperto che ce l'avevano adesso non più infatti c'è un amico dove la rocchia coglione che fai com'era oh pensavo mi stesse tirando non è un altro ma non capirai ma posso devo fare il giro aspetta aspetta che il gioco diceva che devo fare il giro è una cosa ma che è un coso grosso la senz'a ecco ecco canee cosa fai fuggi posso provare di fuggire che scassano proprio il cazzo non posso prenderli da qua dai quello mi ha chiuso la strada come ti ha chiuso la strada finita si trovi c'è questa cosa enorme qua eh uccidilo Ma guarda che numeri Che devo vedere Il lock Il lock Avete lockato ancora quello sotto I cazzo carceri Quanto spaccano Quanto spammano più che altro Ehi vabbè Sì dai non so come è un cazzo Falla tu stavate già mi sono nervosa Cioè così rompiamo per cazzo No 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 Ho sentito io il diare C'è un altro Ma quanta gente c'è La madonna Via Poco due Che bordello sto pezzo Raga Ho detto non sembra così Quando è così esagera Oh ce l'ho fatta Non sono scimmie quelle C'è la game Gli arciani solamente Non ho capito Ce l'ho scavata Comunque c'è qualcosa che mi cura Forse non avevamo quella cosa che si facevi danni Non è un elda Perchè sto confondendo i job Dai si ti capisco perchè anch'io faccio la stessa qua Questo non ho capito come si raggiunge Lo sputo qualcosa Sputagli addosso Eh niente Ignoralo Abbandonalo lì Eh ma io volevo esplorare un attimino qua Qua non c'è niente da fare Posso sapere da qua? No La cura over time No io ho visto dei pallidi verdi Che mi arrivavano addosso quando uccidevo i nemici E quella è la volontà però non credo che curi No non sono verdi Sono verdi i pallini Sì Ah è la volontà ok Pillola non aria celeste Una pillola miracolosa raffinata da lord lao del palazzo Tushita Che aumenta notevolmente il vigore massimo Però adesso noi facciamo una cosa bellina eh Ci mettiamo qua un attimino No stanno giocando a loro No stanno litigando Ehm Non c'è il cibo per me Possono essere usati per creare armi Ah domani ti arriva un pacco a lungo Che cazzo è la pillola del merda? No la prende in automatico quella lì La prende in automatico? Eh sì 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 te la prende in automatico Sì sì ma non è il primo No io mi ricordavo di averlo preso eh Sai che mi sto confondendo con Was Human? Quello del mano Che c'è? Ho appena mangiato Quindi non è che vi vi rompe il cazzo Sì vi vi rompe il cazzo Ma c'è qualcuno che mi ha Sì ma lui non l'ha mai trovato L'ho sempre trovato io Adesso che c'è qua? Ah ma non le respinge No le Parasol c'ha Non è come Nenotria ok Sai che Nenotria se le perri Gliela rimando indietro Siamo un po' flammati tra l'altro Eh? E adesso è andato via Lo status poco Lo status? Poco Ah No quelli di Nenotria fossero flammati No 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 siamo un po' flammati Ok io riposo comunque Ma l'orina No dovrebbero rilasciarlo Tecnicamente non è Com'è che usciva? 21 settembre può essere? No 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 ma era pronto il gioco Doveva uscire però sarebbe uscito Ma diventa da go No Sì ad agosto Cioè ad inizi di agosto Andandosi ad accavallare con l'uscita di Elder Ring E quindi hanno detto no Ah non abbiamo ancora la seta? No l'abbiamo trovata Ma perché ha qualche copri capolino? Non c'è la masca? Ah ok sì lì c'è la E Nenotria è un gioco che sicuramente prenderemo Sì assolutamente Voglio giocare No Un'altra boss fight Eh sì Adesso c'è lui eh Lui adesso ha detto venite su Siamo andati su E' il motto degli stolti Lontano dal cuore Blocco degli occhi Lontano dal cuore E' sempre la sua voce E' sempre la sua voce infatti Sto angazzato Ah effettivamente è un orso nero Mi rincuore il fatto che non mi pare un caso Eh no Cioè mi rincuore lo devo dire che ha E' bellissimo Se possiamo trasformarci in lui è tanta roba Ma per le camere è bastardo Perché c'è il nostro L'orso di lago Che poverso è l'orso quella di Del Baloo Quella della Questa della giungla lì No, ciò perché è meno delicato A me pare purano sotto stero Com'è che si chiama il panda, il papà di Gemma Sautom Quello è un panda però Perché non è purano doveva volcarvi sto panda Sì, 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 sì Che va? Non ha svegliato Sarò più tempo in mostri Ma che be- Vabbè, che forse i pandas sono la stessa famiglia, sì, lo sappiamo, però le colorazioni sono un po' diverse Ah, ah, col cotto, sta in fuoco aiuto, sta in fuoco aiuto, aiuto Il combattimento contro KM ha saluto a me sarebbe finito subito se i reati è cibo, quindi Che dito nel ciaffo sta qua No, ma hai visto come si è lanciato, proprio così? Ok, è proprio il bambino Ok, ok 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 Oh, il burbello lo stava già Eh, se lo status è andato via quello burnout Ok Eh, se lo status è andato via quello burnout Lo sciogliono un po' diventare insopportabile Cazzo Ok Grazie a tutti Grazie Assommati quello del fuoco Così almeno ti evita Grazie Ho anche il mio primo first try Che bello che è però A me sta piacendo un botto sto gioco ragazzi Ha delle criticità Ogni tanto va dei cari di frame assurdi Nonostante stiamo giocando in modalità Frame rate Dimmi che non è una fase Voleva andare via Ma non ce la fa Ciao Eh ha fatto Cileca ragazzi Alla sua età Si comprende anche come cosa Grazie Il sage Oh Oh Pardonmi Young sage Mercia Young sage Have mercia I was just a pawn of the celestial court If given a choice Who dared to challenge The mighty wrecker of the celestial palace E se non è E se non è No matter how daring he was He had not the nerve to harm the great sage There must be someone else Pulling all the stream Ok giustamente E' veramente bello Gratoss E' veramente bello Gratoss E' veramente bello Gratoss E' veramente bello Gratoss E' avievato Beh non ci fanno scelsere Wow Massa Lupini E' un falco Quei baffettini E' un falchetto Quello in cui non c'era E' quello in cui ci eravamo trasformati noi Per scappare Non mi sa capire come ci si trasforma Fammi non mi merda Lascia salire Quella mano non era tanto viva Del bambino? No, quella dove si è appoggiata la rana Sono cazzi del bambino Ora si Divento un orsacchiato di peluche E' ucciso tutti con la mia tenerezza A posto E' così E' il libro della Juga Chinese edition Ma questi disini qua sono belli Forza Questo è lui Questo è giovane Eh, sì Fa da fratello Orson Non credo E l'e 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 l'e' E' la A me piace sempre di più su loro Io credo che sia Magari di quella che è il più grande cazzato del mondo No Perché? Questo è lui, ma perché così fissato i tessuti? No, forse questo è quell'oggetto che gli hanno dato C'era anche il... Questi siamo noi Nemmeno io ho capito molto Mi sono fatto delle mie idee ma sicuramente sono sbagliate Anche Ma qual è il capitolo 1? Ah minchia! L'ho detto qual è il capitolo 1? Penso che la prossima giornata è due Dopo ti fanno dormire, mi piace troppo Dopo ti fanno dormire, mi piace troppo Il pluriball, perchè? Dovrei andare qua? No, le ruo merlaine Vendi meno Mi ho comprato una marea delle ruo merlaine Per portatela a queste cose che ho spesso qua Le ruo merlaine, Hobbie, quelle poste là Nuova religio ottenuta E non l'ho letta Vabbè E' a confermare quella del falchetto